Di Maio, gli annunci e le attese. Ma deve essere chiara una cosa, per il Movimento 5 Stelle o è la manovra del popolo o non ne vale la pena. Hai detto che rappresentavi il popolo, dove sei? Siamo gli stessi di quelli di Firenze noi! I cittadini devono sapere che nel 2019, nel 2020 e nel 2021 nella manovra ci sarà il reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza, il superamento della Fornero. Allora, ci sono pronti circa 350 licenziamenti, quindi ci devono dare il reddito di cittadinanza. E allora a che vale che tu mi dai il reddito di cittadinanza? Dammi il lavoro, direttamente! Qui in Italia devo salvare tanti 55 anni e 60 anni che hanno perso il posto di lavoro e li devo riqualificare per reinserirli lavorativamente. Ma è a rischio il nostro lavoro! Noi faremo di più perché investiamo sulla felicità dei cittadini, sulla voglia di spendere, ma anche sulla voglia di vivere con una qualità della vita migliore. Noi stiamo investendo sul sorriso degli italiani. Quando sono a capo del popolo devono avere la capacità di rispettare il popolo. Ci sentiamo indignati! Grazie a tutti! Ciao!